Buon lunedì a tutti, bentornati sul mio canale o se siete nuovi benvenuti. Sono Elisa True Crime e come ogni lunedì mi siedo qua con voi e vi racconto una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata. Prima di cominciare vi presento il mio microfono che apparirà nel video di oggi perché il microfono che uso di solito è scomparso, letteralmente scomparso in un modo paranormale per essere a tema con la mia rubrica del venerdì. Era sul tavolo, oggi non c'è più, non ho idea di come sia potuto succedere, quindi questo è l'unico microfono che ho, spero vada bene. Non ho idea di come si sentirà, lo scoprirò editando. Spero davvero tanto che si senta bene, che vi piaccia, che non sia fastidioso. Devo aggiungere un'altra cosa, scusate se l'intro diventerà un po' lungo, ma stanno facendo dei lavori sia nell'appartamento sopra che in quello a fianco, quindi sicuramente si sentiranno dei trapani, in questo momento no, ma davvero mi stanno mandando fuori di testa perché qua lavorano giorno e notte, non ci sono orari umani, decenti per il rispetto della vita altrui, ok? Quindi vi chiedo scusa in anticipo, sicuramente si sentiranno durante il video, non c'è davvero niente che io possa fare, devono lavorare anche loro, quindi iniziamo pure questo video di oggi. Oggi parliamo di un caso che mi avete richiesto in tantissimi, un caso di cui sapevo la storia a grandi linee, ma non nei dettagli e quando ho iniziato a fare ricerche, davvero ragazzi sono rimasta particolarmente scioccata, perché è un caso assurdo, molto misterioso, molto triste anche, perché non si capisce davvero che cosa sia successo, è sicuramente una di quelle situazioni che si sarebbe potuta evitare. Ci sono tantissime teorie su questo caso e purtroppo anche tantissime notizie false, perché poi è un caso straniero e quindi immagino che tante notizie si siano un po' distorte, tipo siano andate lost in translation, come si dice. Oggi parliamo del misterioso caso di Magdalena Zouk, che ho scoperto si pronuncia Zouk, Magdalena Zouk, farò del mio meglio per pronunciarlo correttamente. Magdalena era una ragazza polacca e questa storia si svolge in Egitto, quindi le notizie che ho trovato sono o in polacco o in arabo, due lingue che non parlo, ma fortunatamente ho un'amica, anche lei si chiama Magdalena, che è polacca, quindi mi ha aiutata davvero tantissimo a tradurre molte cose. Però se qualcuno di voi parla il polacco, nota che magari ho fatto qualche errore, non esitate a lasciarmi gentilmente un commento e a correggermi, non c'è nessun problema, ho fatto davvero del mio meglio. Dunque Magdalena, o Magda come la chiamavano i suoi amici, nasce in una piccola cittadina della Polonia, di nome Bogatinia, scusate se pronuncero male questi nomi polacchi. La sua infanzia è stata, diciamo, abbastanza normale, non ho trovato eventi particolarmente strani o traumatici. L'unica cosa un po' così è che suo padre era un alcolizzato e quindi chiaramente questo è stato molto difficile per Magdalena da affrontare crescendo. E' probabilmente proprio questa cosa che l'ha portata a lasciare casa all'età di soli 17 anni. A quell'età si trasferisce in un'altra città, che ha un nome impronunciabile che scriverò qua sotto perché sicuramente lo pronuncerei male, questa città distava soltanto una trentina di minuti dalla sua città natale. Magdalena studiava cosmetologia e all'età di soli 22 anni si apre la sua attività, si apre un centro estetico. Era una ragazza davvero molto ambiziosa e lavorava tantissimo e oltre ad avere a soli 22 anni la propria attività, studiava anche per prendere una laurea triennale in dietistica. Magdalena aveva anche un fidanzato di nome Marcus, con cui stava insieme soltanto da tre o quattro mesi, erano all'inizio della loro relazione. E il compleanno del suo fidanzato Marcus si stava avvicinando e quindi Magdalena decide di fargli un regalo, decide di regalargli un viaggio in Egitto, a Marsalam. E questo era un vero e proprio viaggio a sorpresa, nel senso che Magdalena compra tutto, prenota in questo resort molto bello e poi dà i biglietti a Marcus solo sette ore prima della partenza. Chiunque conosca Magdalena conferma il fatto che fosse una ragazza molto molto spontanea e questa cosa era proprio... rientrava nella sua personalità di fare questo tipo di regali, questi viaggi spontanei all'ultimo minuto. Lei era proprio fatta così. Ma purtroppo Marcus ha qualche problema con il suo passaporto, perché per entrare in alcuni paesi il tuo passaporto deve avere una validità di un minimo di mesi, cioè non deve scadere prima di tot mesi. Invece il passaporto di Marcus era quasi scaduto e di conseguenza non era idoneo per, credo, ottenere il visto per entrare in Egitto. Comunque non poteva partire. E hanno anche provato a contattare diverse autorità per vedere se riuscivano a trovare un modo per far partire lo stesso Marcus, ma non c'è stato niente da fare. Marcus non è potuto partire. Magda è sempre stata una persona molto indipendente e non aveva nessun problema a viaggiare da sola. Quindi dopo aver cercato con Marcus di trovare un amico, hanno contattato tutte le persone che conoscevano per sapere se c'era qualcuno disposto così all'ultimo minuto ad unirsi e andare in viaggio con Magda, ma tutti i loro amici erano impegnati. E ho letto anche che Marcus ha provato a mettere in vendita su Facebook questi biglietti aerei, ma che nessuno si è interessato perché il preavviso a questo punto era veramente molto poco. E comunque non capisco come si possano vendere dei biglietti aerei in realtà, perché che io sappia il nome presente sulla carta d'imbarco dovrebbe combaciare esattamente con il nome sul tuo passaporto. Ma forse si può cambiare il nome sulla carta d'imbarco telefonando, forse pagando una cifra extra? Non lo so, non è chiaro. Fatto sta che nessuno alla fine ha comprato questi biglietti. Quindi Magda decide di partire da sola, anche perché questa doveva essere una vacanza di soli tre giorni. Quindi Magda ha detto non c'è nessun problema, ho già pagato il volo, ho già pagato il resort, è un peccato sprecare tutti questi soldi. Mi faccio una piccola vacanza da sola per staccare la testa. Il volo era prenotato per il 25 aprile del 2017, alle 8.20 di sera. E tutte le persone che la vedono in aeroporto quel giorno dichiarano che era una ragazza assolutamente normale, non aveva nessun comportamento strano. Anche le persone che erano sull'aereo con lei non hanno notato nulla fuori dalla normalità. Magdalena arriva a Marsalam la mattina del 26 aprile e noleggia una macchina per andare dall'aeroporto fino al resort. E da quello che ho capito non era un viaggio molto breve, erano un paio di ore di guida. Quindi Magda arriva in questo resort, che era un resort all inclusive molto molto bello sul Mar Rosso, posa le sue cose e inizia la sua vacanza di tre giorni. Era arrivata il mercoledì e il volo di ritorno ce l'avrebbe avuto il sabato mattina. Le persone che la vedono in questo resort dicono che Magda inizia a bere molto non appena arriva lì. Ma onestamente non mi sembra una cosa poi così strana. è una ragazza giovane in vacanza da sola, è un resort all inclusive, quindi mi sembra normale che abbia iniziato a bere un po' di drink, no? Non mi sembra una cosa così assurda. Penso che lo farei anch'io. Ma dopo un po', e non è chiaro dopo quanto tempo, perché le tempistiche in questo caso sono un po' confuse, comunque dopo un po' di tempo la gente che era presente lì dichiara che Magda inizia a comportarsi in un modo strano. Raccontano che passava dall'essere molto tranquilla e silenziosa al ballare sui tavoli e parlare a tutti gli estranei per poi tornare a essere tranquilla e silenziosa. Quindi aveva questi sbalzi, diciamo, di personalità quasi. E dicono che diceva proprio delle cose strane alle persone con cui parlava. Per esempio chiedeva continuamente dove fosse il suo fidanzato Marcus, pur sapendo che non era in vacanza con lei. Inizia anche a mandare dei messaggi, degli sms alla sua famiglia e ai suoi amici in Polonia, anche lì parlandogli come se fossero in vacanza con lei, scrivendogli cose tipo dove siete? Venite nella mia camera adesso. E scrive anche cose più inquietanti ai suoi amici. Per esempio che sentiva delle voci nella sua stanza o nella stanza di fianco. Questa cosa mi ha aiutato la mia amica a tradurla perché in alcuni articoli c'è scritto che lei diceva di sentire voci dentro la sua stanza, invece è un errore di traduzione. perché a quanto pare lei sentiva delle cose strane, delle voci strane, presumo persone che parlavano di cose strane ma non è chiaro di che cosa e le sentiva provenire dalla stanza a fianco alla sua. E pare che addirittura si sia lamentata con lo staff del resort chiedendo di andare a controllare che cosa stesse succedendo nella stanza a fianco e che lo staff del resort sia andato a controllare e che le abbia detto che in realtà era tutto a posto, non stava succedendo nulla di strano e di non preoccuparsi. Ad un certo punto Magda inizia a passare molto del suo tempo insieme all'agente di viaggio che le ha venduto i biglietti che si trovava anche lui lì ed era un uomo di nome Mahmood. E all'inizio sinceramente ho pensato fosse un po' strana questa cosa invece poi leggendo di più ho capito che in realtà non è così strano che gli agenti di viaggio passino del tempo con i turisti una volta arrivati sul posto. Io non ho mai fatto una vacanza del genere quindi non ne ho idea però a quanto pare passano del tempo con i turisti facendogli proprio un po' da guida turistica. E a quanto pare questo Mahmood parlava anche il polacco quindi in realtà potrebbe aver senso che Magda abbia voluto passare del tempo insieme a lui. Magda parlava molto poco l'inglese quindi immagino fosse difficile per lei comunicare e avere una persona a fianco che parla la tua lingua in un posto straniero comunque aiuta quindi diciamo che non è del tutto strano che abbiano iniziato a passare del tempo insieme. Comunque alla famiglia di Magda e anche al suo fidanzato Marcus iniziano ad arrivare delle chiamate e dei messaggi dal telefono di questo Mahmood da parte di Magda quindi Magda stava usando il telefono di quest'uomo per comunicare con la sua famiglia e i suoi amici nonostante lei avesse un cellulare non aveva nessun problema al suo telefono quindi non è chiaro il perché lei utilizzasse il telefono di questo Mahmood invece che il proprio. E ad un certo punto proprio Mahmood inizia a telefonare la sua famiglia la famiglia di Magda e al suo fidanzato dicendogli che Magda si stava comportando in un modo sempre più strano. Inizia anche a mandargli diverse foto foto di Magda per esempio sdraiata sul letto con un accappatoio che si copriva la faccia con questo accappatoio oppure foto di Magda accovacciata sul pavimento del corridoio del resort al che la famiglia di Magda si preoccupa subito tantissimo e la sorella riesce a parlare con lei ma racconta che quello che diceva Magda non aveva nessun senso era proprio difficile starle dietro e capirla. Ora come già detto ci sono molte notizie che secondo me sono state distorte come il fatto che Magda abbia detto alla sorella che aveva paura che qualcuno le avesse messo della droga in uno dei drink che aveva bevuto e che questo era il motivo per cui si stava comportando in un modo così strano ma poi successivamente è stato appurato che questa è una notizia falsa la sorella di Magda ha smentito questa cosa ha detto che Magda non le ha mai detto che pensava che qualcuno le avesse drogato il drink comunque la sua famiglia è appunto preoccupata da morire per lei non capisce che cosa le stia succedendo è da sola in un paese straniero quindi decidono di contattare l'agenzia di viaggi e l'ambasciata polacca in Egitto per trovare un modo per farla tornare indietro il più in fretta possibile e anche il fidanzato Marcus si attiva subito e non potendo andare lui stesso a prenderla per i problemi che aveva con il suo passaporto chiede ad un suo amico di nome Maciek di prenotare il primo volo e di andare a Marsalam a prenderla ma purtroppo non erano disponibili molti voli Polonia Egitto e il primo volo disponibile era non prima di sabato ma comunque questo Maciek prenota questo volo per sabato per andare in Egitto e andare a prendere Magda siamo arrivati a giovedì quindi solo un giorno dopo l'arrivo di Magda a Marsalam e il suo stato peggiora notevolmente e lo staff dell'hotel e anche la gente di viaggio Mahmood sono molto preoccupati per lei devono starle molto dietro perché ha proprio dei comportamenti strani come per esempio si mette a urlare per il corridoio facendo gesti con le mani ma non si capisce a chi stia urlando quindi sono tutti molto preoccupati per lei la maggior parte del tempo era molto agitata e completamente fuori controllo Mahmood insieme appunto allo staff dell'hotel cercano costantemente di farla calmare ma senza successo e il giorno dopo un ospite dell'hotel trova Magda accovacciata nel corridoio del resort con addosso soltanto un accappatoio e sembrava fosse proprio svenuta sembrava fosse incosciente al che chiamano un'ambulanza e la fanno portare all'ospedale ora qui ci sono molte contraddizioni perché ci sono degli articoli in cui c'è scritto che Magda si sia rifiutata di farsi visitare in questo ospedale e che addirittura si sia rifiutata di scendere dalla macchina perché non voleva entrare in questo ospedale mentre invece c'è un video che mostra Magda scendere dalla macchina e camminare di sua spontanea volontà dentro l'ospedale quindi non so bene cosa sia successo e un altro articolo ancora sostiene che sia stato l'ospedale a rifiutarsi di visitarla dicendo che loro non si occupavano di malattie mentali problemi mentali quindi non si capisce bene che cosa succede in questo ospedale non si capisce se alla fine l'abbiano visitata oppure no e se l'hanno visitata che cosa a che conclusione siano arrivati non è chiaro in questo video comunque di lei che cammina verso l'ospedale che youtube permettendo inserirò lei sembra effettivamente un po' disorientata sembra barcolli leggermente sì sembra un po' confusa dopo essere stata in ospedale torna in hotel e il giorno dopo era finalmente sabato quindi Magda aveva il volo di ritorno a casa sua in Polonia quindi la mattina di sabato fa il check out e si dirige verso l'aeroporto anche qua non è chiaro se vada da sola o se ci sia sempre questo Mahmood ad accompagnarla comunque una volta arrivata all'aeroporto le cose diventano ancora più strane perché una volta lì Magda inizia a comportarsi in modo ancora più bizzarro di prima tanto che il personale di bordo del suo volo non le permettono di imbarcarsi non la fanno salire sull'aereo perché pensavano fosse ubriaca oppure comunque instabile e non la fanno partire e per me questa cosa è davvero inspiegabile perché qualsiasi cosa le stesse succedendo qualsiasi cosa le abbiano fatto o qualsiasi cosa di cui avesse paura ormai era in aeroporto doveva soltanto imbarcarsi sull'aereo e andare a casa questo secondo me dimostra che qualcosa stava proprio succedendo nella sua mente qualcosa che era al di fuori del suo controllo perché non è neanche riuscita a contenersi quel tanto che bastava per salire sull'aereo e andare a casa andare a casa dalla sua famiglia dal suo fidanzato perché si è comportata in questo modo che cosa stava succedendo nella sua testa quindi non riesce a partire e la riportano all'hotel in cui stava alloggiando fino a quel momento ma il personale dell'hotel non la vuole più perché gli ha creato troppi problemi e quindi si rifiutano di farle fare di nuovo il check-in e a questo punto lei è insieme a Mahmoud e Mahmoud prova a telefonare ad altri hotel nella zona che però sono o pieni oppure hanno sentito parlare di questa ragazza instabile e si rifiutano anche loro di ospitarla e quindi quella sera Magda si trova nel parcheggio di uno di questi hotel quando fa una videochiamata al suo fidanzato Marcus e la fa usando di nuovo il telefono di Mahmoud che era lì con lei e a questo punto Marcus è sicuro che ci sia qualcosa che non va e inizia a sembrargli anche molto strano che lei continui a usare il telefono di quest'uomo invece che il proprio Marcus il fidanzato di Magda in quel momento si trovava insieme ad un suo amico di nome Michael e inizia a registrare la telefonata anche qui inserirò il video se YouTube me lo permette in questa videochiamata Magda ha tutte e due le mani libere questo vuol dire che Mahmoud sta tenendo il telefono davanti a lei e lei è visibilmente scossa perché fa questi movimenti sposta il suo peso da una parte all'altra è visibilmente agitata e spaventata e parla molto poco come se non si sentisse a suo agio a parlare davanti alle persone con cui è e sicuramente con Mahmoud e con loro pare ci sia anche un amico di Mahmoud in questa telefonata Marcus il suo fidanzato continua a chiederle che cosa sia successo le dice cosa è successo dimmi che cosa ti hanno fatto per favore dimmi cosa è successo questa telefonata dura circa 13 minuti ovviamente è tutta in polacco se riesco vi metto il link nei commenti e a questo punto come vi ho anticipato Maciek l'amico di Marcus sta andando a prendere Magda in quel momento è proprio sull'aereo per andarla a prendere quindi Marcus la tranquillizza ricordandole questa cosa dicendole stai tranquilla resisti perché Maciek sta venendo a prenderti è solo questione di tempo e Marcus è molto insistente chiedendole che cosa le stesse succedendo e ad un certo punto lei risponde che non può dirglielo all'ennesima domanda di Marcus che cosa succede dimmelo dimmelo lei risponde con la lettera M dice proprio M e alcune persone pensano che sia un M tipo di riflessione tipo M però in realtà a me dal video sembra proprio un'affermazione proprio M un indizio quasi al che Marcus le chiede se si riferisse a Mahmoud con la lettera M e lei non risponde ma gli dice che l'avrebbe chiamato col suo telefono usando il suo telefono invece di quello di Mahmoud ma ad un certo punto Magda dice una cosa davvero allarmante Magdalena dice a Marcus una cosa che può tradursi più o meno così hanno tutti dei trucchetti che usano qui mi stanno facendo di tutto portami via da qui per favore e Marcus continua a chiederle che cosa che cosa ti stanno facendo che cosa ti hanno fatto e vi inserisco il minuto esatto in cui sembra dica questa frase perché adesso non me lo ricordo ma sembra che Magda risponda in polacco mi hanno violentata ora ho letto anche tanti commenti tanti pareri di persone anche online c'è qualcuno che lo sente qualcun altro invece no la mia amica polacca mi dice che l'ha sentito che si sente lei dice questa frase in polacco che ovviamente la dice proprio con un filo di voce quindi non è chiarissimo ma somiglia molto alla frase in polacco mi hanno violentata ma sembra che Marcus non la senta perché non risponde a quello e continua a farle pressione a chiederle che cosa è successo e lei inizia a rispondere tanto inutile tanto inutile non te lo dico perché tanto non servirebbe a niente al che lui risponde qualcosa tipo dimmelo perché così ti posso proteggere ma pochi secondi dopo Mahmoud prende il telefono lo gira verso di sé e inizia a parlare a Marcus ora che cosa intendeva Magda con le cose che ha detto e se davvero qualcuno le stava facendo del male perché si è comportata in quel modo all'aeroporto perché non è semplicemente salita sull'aereo e non è tornata a casa questa cosa davvero non mi dà pace perché Magda era così vicina all'andare via e all'uscire da quella situazione comunque dopo questa telefonata Magda viene riportata all'ospedale lo stesso ospedale in cui era già stata mentre la prima volta Magda entra tranquillamente in questo ospedale questa volta non proprio anzi Magda non vuole farsi toccare da nessuno e c'è un video una registrazione delle telecamere di sorveglianza dell'ospedale che mette i brividi nel video lei corre per il corridoio dell'ospedale e si accovaccia per terra mentre delle persone la inseguono si presume che una di queste persone sia Mahmoud altre persone sono sicuramente degli infermieri perché sono vestite da infermieri e nel resto del video Magda inizia ad urlare e tenta quasi di aggredire un uomo in particolare cioè sembra proprio ce l'abbia con una persona in particolare e altre persone la tengono la tengono ferma perché sembra che lei voglia proprio attaccarlo ad un certo punto Magda si siede per terra e una persona che non so chi sia fa una cosa molto strana si mette tra Magda e la telecamera si guarda alle spalle secondo me per capire dove fosse la telecamera e poi si mette in questa posizione totalmente innaturale contro il muro si mette in questa posizione davvero strana come se volesse coprire Magda da questa telecamera e funziona perché noi Magda non riusciamo a vederla perché c'è lui davanti e subito dopo queste persone la prendono di peso in questo modo brutale la prendono dai polsi e dalle caviglie e la portano via la portano in una stanza e la legano al letto con degli asciugamani ora questo è davvero un trattamento disumano ma che possa essere stato un TSO come funziona però il TSO non deve qualcuno non deve dare l'autorizzazione a farlo come funziona in un paese straniero non si sa non ho trovato davvero nessuna informazione su questo su perché l'abbiano legata al letto su perché l'abbiano trattata così quando lei palesemente vuole scappare via comunque appunto la legano al letto e dopo un po' di tempo arriva un'infermiera nella stanza di Magda e a quel punto sono solamente Magda insieme a questa infermiera non c'è nessun altro e pare che Magda chieda a questa infermiera se può andare un attimo al bagno al che l'infermiera la slega e nel momento in cui la slega Magda aggredisce questa infermiera e poi si butta dalla finestra Magda salta giù dal secondo piano e atterra su dei gradini di cemento con il fianco sinistro ma nonostante questa caduta Magda è ancora viva Magda viene soccorsa e viene portata in un altro ospedale ora spiegatemi il senso di questa cosa Magda si è buttata giù dal secondo piano di un ospedale spiegatemi il perché questi la portano in un altro ospedale questa cosa per me non ha nessun senso comunque la portano in quest'altro ospedale che distava tre ore da Marsalam e purtroppo in questo ospedale Magda muore il mattino seguente e ci sono tantissime speculazioni su questa cosa c'è un video delle telecamere di sorveglianza dell'ospedale in cui è stata portata in cui ha perso la vita in cui si vede che la portano dentro una stanza e si vedono persone che fanno avanti e indietro da questa stanza e molti pensano guardando questo video che nessuno abbia fatto niente per salvarla che sono tante le persone che entravano e uscivano in un modo un po' strano ma ripeto queste sono speculazioni perché non sappiamo per certo che cosa sia successo dentro quella stanza l'amico di Marcus Maciek che era andato lì per prendere Magda arriva proprio quella mattina e purtroppo Magda è già morta e anche l'autopsia è stata molto strana e tutti si aspettavano che uscisse qualche mese dopo tutta questa vicenda invece uscita è stata perlomeno resa pubblica un anno e mezzo dopo e non è stata resa pubblica completamente ma solo alcuni pezzi a quanto pare la prima autopsia è stata fatta in Egitto con l'assistenza di un esperto polacco mentre invece la seconda autopsia è stata effettuata da due team di esperti in Polonia in entrambi i casi si dichiara che Magda non aveva nessun segno che indicasse uno stupro aveva solo dei segni tipici di chi cade da una grande altezza nel suo sangue però sono state trovate delle tracce di un medicinale molto forte che si usa per curare appunto le psicosi la schizofrenia e in alcuni casi anche la depressione ma a quanto pare non è mai stata trovata nessuna traccia di droghe per lo stupro o cose del genere chiaramente questo caso coinvolge due paesi e l'Egitto reagisce in un modo e la Polonia reagisce diciamo nel modo opposto l'Egitto dichiara questa morte un suicidio e chiude la faccenda lì non ne parla più di tanto mentre invece la Polonia ha tappezzato letteralmente tutto il paese con la foto di Magda e non potevi accendere la televisione senza sentir parlare di questa storia questa la trovo una cosa abbastanza normale in quanto l'Egitto vive per lo più con i soldi del turismo quindi non dico che sia giusto assolutamente ma capisco il perché abbiano voluto diciamo mantenere un basso profilo riguardo questa storia soprattutto perché l'Egitto per altri motivi di eventi passati non era già più da tempo la meta preferita dai turisti comunque ora parliamo delle teorie su questo caso che sono più che altro degli spunti di conversazione con voi ragazzi perché voglio davvero sapere che cosa ne pensate voi e quali siano le vostre teorie la prima teoria è che Marcus il fidanzato di Magda fosse coinvolto fin dall'inizio e che l'abbia proprio venduta a qualcuno coinvolto nel traffico di donne ci sono molte speculazioni sulla videochiamata che Marcus ha reso pubblica ora questa telefonata era appunto stata registrata da un amico di Marcus di nome Michael ok quindi Marcus parlava con Magda e questo Michael teneva un altro telefono sopra il telefono di Marcus e registrava tutto e alcune persone compresa la mia amica polacca hanno sentito una cosa in questa videochiamata al minuto 12 e 54 secondi si può sentire l'amico Michael dire a Marcus una cosa che si traduce più o meno così non farla parlare così tanto taglia taglia nel senso taglia questa conversazione detto in un modo che sembrava stesse dicendo a Marcus di non farle così tanta pressione chiedendole che cosa fosse successo perché c'era il rischio che lei cedesse e che effettivamente parlasse e dicesse quello che le stava succedendo come se fosse già tutto organizzato come se fosse tutta una farsa il fatto che Marcus la stesse chiamando che le stesse chiedendo che cosa è successo che stesse registrando la telefonata quasi per scagionarsi ma che in realtà fossero tutti d'accordo e quindi questo suo amico gli dice proprio non pressarla così tanto basta taglia e ci sono state speculazioni anche sul fatto che Marcus in questa telefonata è molto molto freddo è molto calmo e considerando la situazione insomma penso che se io fossi nella situazione di Magda mio marito penso che sarebbe fuori di testa molte persone hanno pensato che Marcus non stava mostrando molte emozioni però sono sempre solo teorie perché comunque se ci pensiamo Marcus non sapeva nulla del viaggio questa è stata una sorpresa l'ha scoperto solo sette ore prima della partenza era stata tutta un'idea di Magda la seconda teoria è che l'agente di viaggio Mahmood fosse coinvolto e che Magda si riferisse proprio a lui quando ha detto la lettera M ma se ci fate caso tutti i protagonisti di questa storia hanno un nome che inizia per M Magda Marcus Mahmood Michael e addirittura l'amico che era andato a prendere Magda si chiamava Maciek ci sono tantissime M in questo caso chiaramente la gente pensa sia molto strano che Magda usasse continuamente il cellulare di Mahmood e non il suo per comunicare con la sua famiglia i suoi amici e ci sono delle fonti che hanno dichiarato che Mahmood era famoso per tentare di drogare ragazze e l'agente di Marsalam sostiene che da quando è successa questa storia Mahmood sia scomparso pare che abbia cancellato tutti i suoi profili facebook social media vari e che non si veda proprio più in giro ora questa mi sembra la cosa meno strana di tutte perché questo è un caso davvero molto famoso a livello internazionale quindi posso solo immaginare la pressione e gli insulti che la gente gli deve aver mandato su tutti i social quindi che sia scomparso e che si sia cancellato dall'internet non la trovo una cosa così sospetta ecco c'è da specificare che Mahmood è stato interrogato dalla polizia praticamente subito e la polizia l'ha rilasciato e non è mai stato un sospettato quindi questo è da specificare un'altra teoria è che Magda sia stata drogata e questo spieghi il suo comportamento strano molte persone pensano che Magda mostrasse chiaramente i segni tipici di chi assume droghe come le droghe che vengono usate per lo stupro le famose droghe per lo stupro e le persone nel resort dicono di averla vista bere molto quindi forse qualcuno le ha davvero messo della droga in un drink ma se fosse così l'effetto può durare per giorni non me ne intendo ma presumo di no in questo caso allora forse potrebbero averla drogata ripetutamente cioè più volte nel corso dei giorni ma anche lì se fosse così non sarebbe venuto fuori dall'autopsia invece nelle poche righe che sono state rese pubbliche dell'autopsia c'è scritto che non c'era traccia di droghe per lo stupro ma ho letto da qualche altra parte che non è così semplice rilevare tracce di droghe nel sangue nel senso che non esiste un esame generico nel senso voglio vedere se questa persona ha fatto uso di droghe e quali non è così automatico praticamente devi fare un esame diverso per ogni tipo di droga cioè vuoi vedere se quella persona ha fatto uso di cocaina ok devi fare l'esame specifico per quella droga lì insomma un esame specifico per ogni tipo di droga confermatemi questa cosa non sono un dottore ma io ho letto questo quindi nel caso in cui avessero usato magari qualche droga particolare e magari il medico legale non ha fatto l'esame per quella specifica droga allora in quel caso non sarebbe venuto fuori giusto? aggiungo anche che non avendo rilasciato al pubblico l'autopsia completa è difficile fare teorie su questa cosa secondo la sua famiglia Magda è stata drogata stuprata e poi uccisa ma anche lì in quelle poche righe che hanno rilasciato al pubblico dell'autopsia c'è scritto che non c'era nessun segno di violenza e quando è caduta diciamo dalla finestra nella stanza c'era solo lei insieme a quell'infermiera quindi potrebbe essere che questa infermiera l'abbia spinta fuori dalla finestra ma che vantaggio avrebbe avuto l'ospedale nell'ucciderla l'ultima teoria è che Magda abbia semplicemente avuto un crollo mentale che l'ha portata a comportarsi in modo molto strano per giorni fino a togliersi la vita ma Magda non ha nessun precedente di questo genere non ha mai sofferto di nessun disturbo mentale pare che sia andata in terapia per un periodo per il fatto che suo padre fosse un alcolizzato e per lei appunto è stato molto difficile ma questo non significa niente io vado in terapia e non ho assolutamente nessun problema mentale anzi ed è altamente improbabile che una persona completamente sana di mente con nessun precedente possa avere all'improvviso un crollo mentale così forte non dico che sia impossibile perché non lo so ma è altamente improbabile io davvero non so che cosa pensare non so quale sia la mia teoria penso sia plausibile che possano averle messo della droga in uno dei drink e magari che l'abbiano drogata più volte nel corso dei giorni perché ripeto il fatto che sia arrivata a tanto così da salire sull'aereo e tornarsene a casa e che non sia stata in grado di controllarsi davvero dimostra che c'era davvero qualcosa che non andava qualcosa che lei non è riuscita a controllare e penso che si sia buttata dalla finestra in un gesto disperato e non ponderato credo si trovasse sicuramente in uno stato confusionale e penso che senza riuscire a ragionare troppo lei abbia solo pensato istintivamente che voleva scappare il suo fine era scappare non uccidersi quindi ha visto la finestra e saltata senza ragionare perché non era in grado in quel momento di pensare se salto dalla finestra forse muoio no lei non era in grado secondo me di formulare questo tipo di ragionamento è stato tutto molto istintivo e quindi secondo me questo è il motivo secondo me non aveva intenzione di uccidersi saltando giù dalla finestra ma queste sono tutte le informazioni che ho su questo caso è un caso davvero spaventoso se pensiamo che si svolge nell'arco di 3-4 giorni fatemi sapere se per caso avete delle informazioni in più su questo caso fatemi sapere che cosa pensate che sia successo qual è la teoria più plausibile secondo voi o qual è la vostra teoria lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto lasciatemi un commento non dimenticate di iscrivervi al mio canale e anche al mio secondo canale in cui pubblico settimanalmente o quasi vlog sulla mia vita in Cina grazie di aver passato il vostro tempo con me anche oggi ci vediamo a venerdì ci vediamo venerdì con un altro video ciao